20 ville di lusso per completare l'offerta turistica del Verdura Resort, esclusivo complesso di Roccofort Hotels sulla costa meridionale della Sicilia, realizzate grazie al finanziamento di Invitalia, ottenuto con il contratto di sviluppo, apriranno a marzo 2021. L'idea stessa delle ville è nata dalla richiesta della nostra clientela più qualificata. Il mondo dell'otteneria di Russo sta cambiando notevolmente, non solo per via del Covid, ma il processo è iniziato ormai da parecchi anni. Una parte sempre maggiore di clientela privilegia situazioni ora anche diverse, di sistemazioni diverse che non quelle tradizionali della Camera d'Albergo. Le ville offrono in effetti la possibilità di trascorrere un periodo nella privacy, il tutto naturalmente con il Verdura Resort a 100 metri dove i clienti delle ville potranno trovare il servizio. Il Verdura Resort, così come oggi, impiega nella stagione migliore oltre 450 dipendenti. Con le ville arriveremo probabilmente a 550. L'indotto è importantissimo e questo non solo per quanto riguarda il periodo di costruzione e di assestamento delle strutture, ma questo dura e durerà per sempre. Un rapporto, quello con Invitalia, nato più di dieci anni fa. Quello tra Invitalia, Roccoforte e Hotels è qualcosa di più di un semplice rapporto di finanziamento. A circa dieci anni dall'inizio di questa collaborazione con la creazione del Verdura Resort nel 2009, possiamo dire che si è trasformato quasi in una partnership per lo sviluppo turistico qualificato, specialmente del sud della Sicilia e cioè della costa mediterranea. Un esempio quindi di collaborazione vincente tra pubblico e privato. Il Verdura Resort e i progetti dei quali abbiamo parlato sono un esempio chiaro di come il rapporto tra pubblico e privato possa essere veramente determinante per lo sviluppo economico e per quello turistico in genere. Molti di questi progetti e la possibilità stessa di attuare questi progetti dipendono da una serie di fattori. Prima di tutto quello dello sviluppo delle infrastrutture e poi ovviamente operatori turistici di qualità. Ed ecco come il pubblico e il privato possono lavorare assieme, dove il pubblico possa agire non solo da finanziatore, ma anche come aiuto. 20 ville di lusso per completare l'offerta turistica del Verdura Resort, esclusivo complesso di Roccofort Hotels sulla costa meridionale della Sicilia. Realizzate grazie al finanziamento di Invitalia, ottenuto con il contratto di sviluppo, apriranno a marzo 2021. L'idea stessa delle ville è nata dalla richiesta della nostra clientela più qualificata. Il mondo dell'otteneria di Russo sta cambiando notevolmente, non solo per via del Covid, ma il processo è iniziato ormai da parecchi anni. Una parte sempre maggiore di clientela privilegia situazioni ora anche diverse, di sistemazioni diverse che non quelle tradizionali della Camera d'Albergo. Le ville offrono in effetti la possibilità di trascorrere un periodo nella privacy, il tutto naturalmente con il Verdura Resort a 100 metri, dove i clienti delle ville potranno trovare il servizio. Il Verdura Resort, così come oggi, impiega nella stagione migliore oltre 450 dipendenti. Con le ville arriveremo probabilmente a 550. L'indotto è importantissimo e questo non solo per quanto riguarda il periodo di costruzione e di assestamento delle strutture, ma questo dura e durerà per sempre. Un rapporto, quello con Invitalia, nato più di dieci anni fa. Quello tra Invitalia e Roccoforte Hotels è qualcosa di più di un semplice rapporto di finanziamento. A circa dieci anni dall'inizio di questa collaborazione con la creazione del Verdura Resort nel 2009, possiamo dire che si è trasformato quasi in una partnership per lo sviluppo turistico qualificato, specialmente del sud della Sicilia, e cioè della costa mediterranea. Un esempio quindi di collaborazione vincente tra pubblico e privato. Il Verdura Resort e i progetti dei quali abbiamo parlato sono un esempio chiaro di come il rapporto tra pubblico e privato possa essere veramente determinante per lo sviluppo economico e per quello turistico in genere. Molti di questi progetti e la possibilità stessa di attuare questi progetti dipendono da una serie di fattori. Prima di tutto quello dello sviluppo delle infrastrutture e poi ovviamente operatori turistici di qualità. Ed ecco come il pubblico e il privato possono lavorare assieme, dove il pubblico possa agire non solo da finanziatore, ma anche come aiuto.